Camilla Serrapiglio, attrice nonché compagna del portiere della Juve Stabia Andrea Seculin. L'anno scorso hai deciso di trasferirti anche tu, hai lasciato Firenze. Come è stato questo trasferimento? Allora, pensavo che fosse più traumatico, devo dirti la verità. Io invece mi sono ambientata molto bene e mi sono messa alla prova, perché io sono sempre stata figlia unica, quindi viziata, servita e riverita. Quindi mi sono messa alla prova, in primis, però ce l'ho fatta e quindi quest'anno ho deciso di seguirlo ancora. Quindi a questo punto possiamo dire che ti senti quasi a casa, in Campania? Sì, perché io, allora, i miei parenti da parte di papà sono di Napoli, quindi risento un po' di questa pena campana. Però si sa che comunque le persone del sud sono disponibili, aperte, cordiali e quindi mi sono trovata bene. Parlando invece del rendimento in campo del tuo fidanzato, come sono andate le cose, che bilancio ti senti di trarre da quando è arrivato ad oggi? Allora, quest'anno ha avuto dei piccoli, diciamo, imprevisti e disagi perché è stato fermo sia per influenza, sia per un dolore al piede e alla schiena. Quindi ha avuto un po' di alti e bassi e sostituito alla grande da Nocchi, però è riuscito a riconquistarsi il suo posto e ora sta dimostrando, insomma, che vale molto. Fiorentina sempre nel cuore? Sì, anche se, ecco, questo è il ganso, te lo devo raccontare. Quando c'è stata la partita di Coppa Italia, qua a Firenze, io ero in piedi a cantare il tifo e l'inno della Fiorentina, sventolando la sciarpa della Juve Stavia, quindi proprio un connubio. Perfetto. Tra l'altro fu anche protagonista di alcune belle parate, no? In quella partita, è chiaro, la Fiorentina poi alla fine riuscì a vincere con il suo superiore tasso tecnico, però fu impegnato parecchio. Sì, quest'anno la Fiorentina vola alla grande, proprio, penso sia la rivelazione dell'anno del campionato, insomma, di questo campionato. Però è stato, sì, protagonista in positivo della partita, sono contenta. Il sogno suo, naturalmente, è quello di arrivare in Serie A, quali sono le prospettive? Magari già dal prossimo anno c'è questa possibilità o no? Lo spero anch'io per lui, perché è il suo sogno, è il suo obiettivo della vita, insomma. Io spero torni a Firenze, che c'entra, però, insomma, anche lui, cioè lui è affezionato moltissimo sia a Firenze sia alla Fiorentina. E penso che forse, non so se sarebbe un azzardo l'anno prossimo in A, però, insomma, vediamo un po' come prosegue il girone di ritorno. E poi, insomma, a fine campionato trarranno le somme lui e il procuratore e vedremo un po' cosa decideranno. Quali sono, invece, i tuoi progetti a livello professionale? Tu hai avuto parti importanti in alcuni film, in alcune trasmissioni televisive. Adesso, quali sono i tuoi programmi? Allora, io attualmente ho un po' abbandonato le scene, però, ecco, non si sa mai. Quello che viene lo cerco sempre di giudicare cosa potrebbe essere meglio per me. Bene, ora sono un po' ferma, ho preso altre strade, sto facendo dei corsi per diventare istruttrice di palestra e quindi per ora sono focalizzata su quello, però in futuro non si sa mai, ecco. Qualche altro film, magari, nei tuoi pensieri c'è ancora o no? Sì, a me piace tantissimo, quindi, recitare, perciò aspettiamo un po', vediamo.